Ciao a tutti e benvenuti a Matt in Scratch, la serie di videotutorial della casa editrice Latte Seditori che uniscono il mondo di Scratch con quello della matematica. In questo videotutorial realizzeremo un programma capace di effettuare la divisione tra due potenze. La prima operazione da svolgere è eliminare lo sprite di Scratch e cercare un nuovo personaggio, ad esempio Devin. Il programma si attiverà dopo il clic sulla bandiera verde, dunque selezioniamo il relativo headblock all'interno della cartella Situazioni. Poiché lo sprite sarà invisibile per buona parte del programma, inseriamo il blocco Nascondi presente all'interno della cartella Aspetto. Il programma che realizzeremo chiederà all'utente di inserire la prima base ed il primo esponente, poi la seconda base ed il secondo esponente ed infine il tipo di operazione da svolgere. Per memorizzare ciascuna risposta sarà necessario creare delle variabili. Dunque accediamo alla cartella Variabili e selezioniamo la voce Crea una variabile. Chiameremo la prima variabile base 1. Andiamo poi a creare la variabile esponente 1. Creiamo ancora la variabile base 2 ed infine creiamo nuovamente la variabile esponente 2. Adesso inizializziamo tutte le variabili a 0 tramite il blocco Porta variabile a 0. Nel blocco troviamo già indicata la prima variabile. Duplichiamo il blocco tramite il tasto destro e la voce duplica. All'interno del menu selezioniamo esponente 1. Duplichiamo nuovamente il blocco e nel menu selezioniamo la variabile base 2. Infine duplichiamo nuovamente il blocco e nel menu selezioniamo esponente 2. Per fare in modo che nello stage compaia una domanda rivolta all'utente, il quale dovrà inserire dei dati di input, adoperiamo il blocco chiedi e attendi presente all'interno della cartella sensori. All'interno del blocco digitiamo il testo, inserisci, la prima, base. La risposta a questa domanda dovrà essere inserita all'interno della variabile che abbiamo chiamato base 1. Dalla cartella variabili selezioniamo il blocco porta variabile A e lo inseriamo nell'area degli script. Nel menu poi verifichiamo che sia presente la voce base 1. Nella cartella sensori preleviamo il blocco risposta e lo inseriamo all'interno dell'ovale bianco. Andiamo poi a duplicare gli ultimi due blocchi. All'interno del blocco chiedi digitiamo il testo, inserisci il primo esponente. Andiamo poi a selezionare la voce esponente 1 all'interno del blocco porta variabile A. Adesso duplichiamo gli ultimi quattro blocchi. Partiamo con il terzo blocco chiedi. Andiamo a modificarne il testo. Ovviamente in questo caso l'utente dovrà inserire la seconda base e non più la prima e all'interno del blocco che gestisce la variabile selezioniamo base 2. Modifichiamo anche il quarto blocco chiedi. In effetti l'utente dovrà inserire il secondo esponente e la variabile all'interno della quale verrà caricata la risposta sarà esponente 2. In questo modo ogni risposta data dall'utente verrà conservata nella relativa variabile. Poiché il programma dovrà chiedere il tipo di operazione da svolgere, andiamo ad inserire un nuovo blocco chiedi ed attendi presente all'interno della cartella sensori. Andiamo poi a digitare al suo interno la seguente domanda. Quale operazione vuoi svolgere? Come sempre dobbiamo inserire la risposta all'interno di una variabile. Nella cartella Variabili creiamo la variabile Operazione. Andiamo poi ad inizializzare la variabile inserendo il blocco Porta una certa variabile a 0 al di sotto degli altri blocchi che gestiscono le variabili introdotte e selezioniamo dal menu la variabile Operazione. Infine, riportiamo lo stesso blocco al di sotto del blocco Chiedi ed attendi. Selezioniamo nel suo menu la variabile Operazione e all'interno della cartella Sensori inseriamo il blocco Risposta nell'ovale bianco. Entriamo nel vivo del programma. Nel nostro caso gestiremo solo l'operazione della divisione. Introduciamo il blocco condizionale Se e Allora presente all'interno della cartella Controllo. Tutte le istruzioni che seguiranno si attiveranno solo se, alla richiesta dell'operazione da eseguire, l'utente inserirà nell'apposito riquadro il termine Divisione oppure il simbolo della divisione. Dunque, accediamo alla cartella Operatori. Visto che dobbiamo inserire due possibili condizioni, adoperiamo prima il blocco boleano che prevede la possibilità di scegliere un termine oppure l'altro. Per ciascuna area vuota, invece, andiamo ad inserire un blocco di uguaglianza. Nel primo ovale bianco inseriamo la variabile Operazione presente nella cartella Variabili. Mentre nel secondo ovale bianco digitiamo la parola Divisione. Nel terzo ovale bianco inseriamo nuovamente la variabile Operazione. Mentre nel quarto ovale bianco digitiamo il simbolo della divisione. Adesso, all'interno dell'istruzione condizionale appena realizzata, andiamo ad inserire le varie proprietà delle potenze. Le potenze godono di alcune proprietà che ci permettono di semplificare i calcoli. Ad esempio, le potenze con base 0 ed esponente diverso da 0 sono pari a 0, ma attenzione, la potenza 0 elevato a 0 non ha significato. Per scrivere la regola nell'ambito della programmazione, inseriamo all'interno dell'istruzione condizionale una nuova istruzione SEALLORA. La condizione da rispettare è che se una delle due potenze è data da base 0 ed esponente 0, allora dovrà comparire lo sprite per dire che la potenza non ha significato. Nella cartella Operatori, selezioniamo il blocco boleano con una O al centro. All'interno delle due aree vuote andiamo ad inserire il blocco che presenta la E. Infine, in ciascuno degli esagoni verdi, andiamo a posizionare un blocco di uguaglianza. Nel primo ovale bianco inseriamo il blocco base 1 presente all'interno della cartella Variabili. Nel secondo ovale bianco, invece, inseriamo il valore numerico 0. Nel terzo ovale bianco, andiamo ad inserire la variabile esponente 1 e nel quarto ovale digitiamo il valore numerico 0. Procediamo poi inserendo nel quinto ovale bianco la variabile base 2, nel sesto il valore numerico 0, nel settimo la variabile esponente 2, ed infine nell'ottavo il valore numerico 0. Accediamo dunque alla cartella Aspetto e selezioniamo il blocco Mostra, inserendolo all'interno dell'istruzione condizionale. Sempre all'interno della cartella Aspetto, selezioniamo poi il blocco Dire ciao per un certo numero di secondi. All'interno del blocco digitiamo il testo La potenza 0 elevato a 0 non ha significato. La frase dovrà comparire nello stage per 10 secondi. Passiamo alla seconda proprietà. Il quoziente di due potenze aventi la stessa base è la potenza avente per base la stessa base e per esponente la differenza fra gli esponenti. Dunque, a elevato alla n diviso a elevato alla m sarà uguale ad a elevato ad n meno m con n maggiore di m. Andiamo a scrivere la parte di programma che ci permette di rispettare questa regola. Nella cartella Controllo selezioniamo il blocco Se allora ed inseriamolo all'esterno dell'istruzione condizionale che regola la potenza 0 elevato a 0 ma all'interno dell'istruzione condizionale che invece regola l'operazione della divisione. La condizione da imporre è l'uguaglianza delle basi. Dunque, nell'area tra il Se e l'Allora inseriamo il blocco di uguaglianza presente nella cartella Operatori. Nella cartella Variabili selezioniamo il blocco Base 1 e lo inseriamo all'interno del primo vale bianco mentre il blocco Base 2 verrà inserito all'interno del secondo vale bianco. Adesso nasce una nuova esigenza. Poiché la divisione, come abbiamo visto, genera una nuova potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza tra gli esponenti dobbiamo creare due nuovi variabili che chiameremo rispettivamente Base ed esponente ed esponente Come per le altre variabili inizializzeremo anche Base ed esponente a 0 proprio l'introduzione del programma utilizzando il blocco Porta base a 0 Nuovamente un blocco Porta dove nel menu selezioniamo Esponente Ritorniamo all'interno dell'istruzione condizionale Abbiamo detto che nel caso di divisione tra due potenze che presentano la stessa base la regola impone che il risultato sarà una potenza che avrà per base la stessa base Quindi adoperiamo il blocco Porta base a all'interno del quale è già selezionata la variabile Base Il suo valore sarà posto pari a Base 1 che in questo caso è proprio uguale a Base 2 Secondo la regola inoltre l'esponente sarà dato dalla differenza tra gli esponenti delle due potenze in campo nella divisione Selezioniamo dunque un nuovo blocco Porta variabile a all'interno del quale selezioniamo la variabile Esponente Nello vale bianco dovremo inserire la differenza tra gli esponenti precedentemente inseriti dall'utente ovvero Esponente 1 meno Esponente 2 Dalla cartella Operatori preleviamo il blocco che ci consente di effettuare la sottrazione Andiamo poi ad inserire al primo membro la variabile Esponente 1 e dal secondo membro la variabile Esponente 2 Una volta ottenuto il risultato della divisione in termini di Base ed Esponente dobbiamo ottenere il risultato dell'elevamento a potenza Creiamo quindi una nuova variabile che chiameremo Risultato Il risultato potrà essere ottenuto moltiplicando la Base per se stessa per un numero di volte pari all'esponente Per fare ciò è necessario adoperare il ciclo di ripetizione presente all'interno della cartella Controllo All'interno del ciclo inseriamo il blocco Porta variabile A presente nella cartella Variabile all'interno del quale selezioniamo la variabile Risultato In questa variabile dobbiamo inserire il valore ottenuto dalla moltiplicazione del valore della base per se stessa per un numero di volte pari al valore dell'esponente Per ottenere ciò selezioniamo il blocco che consente la moltiplicazione presente all'interno della cartella Operatori ed inseriamola nell'ovale bianco Al primo membro dobbiamo inserire una variabile che alla prima ripetizione del ciclo valga 1 che moltiplicato per il valore della base dia il valore della base Alla seconda ripetizione però questo valore deve assumere il valore della base e deve essere nuovamente moltiplicato per la base stessa e così via Per ottenere questo risultato possiamo adoperare la variabile Risultato ma attenzione, a differenza delle altre variabili deve essere inizializzata ad 1 Accediamo dunque alla cartella Variabili ed andiamo ad inserire il solito blocco Porta variabile A al di sotto delle altre variabili già inizializzate All'interno del menu selezioniamo la variabile Risultato ed in questo caso la inizializziamo al valore numerico 1 Ritorniamo al ciclo di ripetizione Andiamo dunque ad inserire al primo membro della moltiplicazione la variabile Risultato e dal secondo membro della moltiplicazione la variabile Base Infine, la variabile Esponente rappresenterà il numero di volte che il ciclo dovrà essere ripetuto Per interrompere l'esecuzione del programma apriamo la cartella Controllo e selezioniamo il blocco Fermatutto andando a posizionarlo all'esterno del ciclo di ripetizione ma sempre all'interno della seconda istruzione condizionale Il quoziente di due potenze aventi lo stesso esponente è la potenza avente per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente Dunque, a elevato alla n diviso b elevato alla n è uguale ad a diviso b elevato alla n con b diverso da zero Andiamo a scrivere la parte di programma che ci permette di rispettare tale regola Andiamo ad inserire un nuovo ciclo se allora che come sempre andrà posizionato all'interno del ciclo che gestisce l'operazione di divisione ma all'esterno rispetto agli altri La condizione che deve essere rispettata in questo caso è l'uguaglianza degli esponenti Dunque, nella cartella Operatori selezioniamo il blocco di uguaglianza e lo posizioniamo tra il se e l'allora Al primo membro andiamo ad inserire la variabile esponente 1 mentre al secondo membro la variabile esponente 2 All'interno dell'istruzione condizionale inseriamo il blocco porta variabile A selezionando all'interno del blocco la variabile esponente Andiamo poi ad inserire all'interno dell'ovale bianco la variabile esponente 1 che sarà uguale alla variabile esponente 2 Seguendo la regola la base sarà data dal quoziente delle basi quindi inseriamo nuovamente il blocco porta variabile A e lasciamo la variabile base selezionata Nell'ovale bianco poi inseriamo il blocco che consente la divisione Al primo membro andiamo ad inserire la variabile base 1 mentre al secondo membro la variabile base 2 Una volta applicata la regola e ottenuta la relativa potenza possiamo calcolare il risultato nello stesso modo che abbiamo adoperato in precedenza Dalla cartella controllo dunque selezioniamo un blocco di ripetizione All'interno del ciclo andiamo ad inserire il blocco porta variabile A presente all'interno della cartella variabili all'interno del quale selezioniamo la variabile risultato Nella cartella operatori selezioniamo un blocco che ci consente di effettuare la moltiplicazione al primo membro inseriamo nuovamente la variabile risultato e al secondo la variabile base Infine il ciclo verrà ripetuto per un numero di volte pari ad esponente Infine all'esterno del ciclo di ripetizione ma sempre all'interno della terza istruzione condizionale inseriamo il blocco ferma tutto presente all'interno della cartella controllo E' possibile poi incontrare il caso in cui la divisione venga svolta tra due potenze che non hanno né la stessa base né lo stesso esponente In questo caso dovremmo prima risolvere ciascuna potenza ed in seguito effettuare la divisione Inseriamo dunque una nuova istruzione condizionale Se e Allora Poiché nella cartella Operatori non esiste il simbolo di disuguaglianza adopereremo il blocco Non inserendolo tra il Se e l'Allora Al suo interno posizioniamo il blocco che prevede una E centrale in modo da negare due eventi In ciascuno dei due esagoni andiamo a sistemare un blocco di uguaglianza La prima uguaglianza verrà effettuata tra le basi dunque accediamo alla cartella Variabili ed inseriamo nel primo ovale il blocco base 1 e nel secondo il blocco base 2 La seconda uguaglianza sarà invece effettuata tra gli esponenti dunque inseriamo nel primo ovale la variabile esponente 1 e nel secondo la variabile esponente 2 All'interno dell'istruzione condizionale andiamo ad inserire i blocchi che consentono di svolgere ciascun elevamento a potenza Nella cartella Controllo selezioniamo il ciclo di ripetizione Adesso sarà necessario creare due nuove variabili Risultato 1 che conterrà lo svolgimento della prima potenza e Risultato 2 che conterrà lo svolgimento della seconda potenza Anche in questo caso dobbiamo inizializzare le variabili all'inizio del programma Inseriamo dunque il blocco Porta variabile A ricercando all'interno del suo menu la variabile risultato 1 ed inizializzandola ad 1 Svolgiamo la stessa operazione per la variabile risultato 2 che verrà anch'essa inizializzata al valore numerico 1 Ritorniamo poi al ciclo di ripetizione All'interno del ciclo inseriamo il blocco Porta variabile A dove nel menu selezioniamo la variabile risultato 1 Nell'ovale bianco andiamo a posizionare poi un blocco che consente la moltiplicazione Al primo membro inseriamo la variabile risultato 1 mentre al secondo membro la variabile base 1 Le istruzioni verranno ripetute per un numero di volte pari ad esponente 1 Allo stesso modo calcoliamo la seconda potenza Inseriamo dunque un nuovo ciclo di ripetizione dove al suo interno posizioniamo il blocco Porta variabile A Nel menu selezioniamo la variabile risultato 2 Nella cartella Operatori selezioniamo il blocco di moltiplicazione Al primo membro posizioniamo la variabile risultato 2 mentre al secondo membro la variabile base 2 In questo caso le istruzioni dovranno essere ripetute per un numero di volte pari ad esponente 2 In questo caso le variabili già adoperate base ed esponente che rappresentano la base e l'esponente ottenuti dall'applicazione delle proprietà non possono essere adoperate Dunque inseriamo il blocco Porta base a 0 e un nuovo blocco Porta variabile A all'interno del quale selezioniamo la variabile esponente Inseriamo poi nuovamente un blocco Porta variabile A selezionando all'interno del menu la variabile risultato Il risultato finale potrà essere ottenuto dividendo la variabile risultato 1 con la variabile risultato 2 Nella cartella Operatori selezioniamo dunque il blocco che consente la divisione Al primo membro inseriamo la variabile risultato 1 mentre al secondo membro la variabile risultato 2 Infine inseriamo il blocco Fermatutto presente all'interno della cartella Controllo Poiché abbiamo introdotto delle nuove variabili ovvero risultato 1 e risultato 2 che abbiamo inizializzato ad 1 quando vengono attivate le proprietà delle potenze è necessario che queste variabili valgano 0 dunque accediamo alle altre istruzioni condizionali che abbiamo realizzato ed associamo a tali variabili il valore 0 Dunque tramite la cartella Variabili selezioniamo il blocco Porta variabile A all'interno del quale identifichiamo la variabile Risultato 1 Svolgiamo poi la stessa operazione per Risultato 2 Gli stessi blocchi verranno poi inseriti anche nel caso dell'istruzione condizionale con esponenti identici Nel blocco inserito selezioniamo Risultato 1 posto pari a 0 inseriamo un nuovo blocco e riportiamo Risultato 2 pari a 0 Infine riordiniamo le variabili presenti all'interno dello stage Lasciamo Base 1 ed Esponente 1 in alto a sinistra Spostiamo poi Operazione Infine Base 2 ed Esponente 2 verranno posizionati in alto a destra In questo modo possiamo vedere i valori inseriti dall'utente e l'operazione che viene svolta Andiamo poi a posizionare Risultato 1 al di sotto della variabile Esponente 1 e Risultato 2 al di sotto della variabile Esponente 2 Infine lasciamo nella loro posizione Base ed Esponente e posizioniamo il risultato finale al centro In questo modo l'operazione sarà più semplice da leggere In effetti vedremo in Base 1 ed Esponente 1 ed in Base 2 ed Esponente 2 i valori inseriti dall'utente In Operazione l'operazione da eseguire In Base ed Esponente la relativa Base e l'Esponente nel momento in cui i dati inseriti rispettano le proprietà della divisione o le regole generali delle potenze Se ci troviamo nel caso in cui i dati inseriti presentano basi diverse ed esponenti diversi allora ciascun valore verrà ritrovato nella variabile risultato 1 e risultato 2 Infine il risultato generale dell'operazione verrà riscontrato all'interno della variabile risultato Nel caso in cui venga inserita la potenza 0 elevato a 0 comparirà il nostro sprite Devin il quale ci dirà che questa potenza non ha significato Dopo aver testato il programma sarà opportuno ridimensionare e posizionare lo sprite in modo da rendere il testo leggibile Adesso tocca a voi proseguite con la scrittura del programma inserendo le altre operazioni e le relative proprietà La nostra attività si conclude qui e ricordatevi con Scratch potete realizzare tutto quello che siete in grado di immaginare Un saluto a tutti e arrivederci al prossimo videotutorial di immaginare